Oggi dedicheremo un minuto per un argomento molto importante, il nuovo regolamento europeo sulla privacy, il cosiddetto GDPR. Le ispezioni sono iniziate per le aziende, i controlli sono già effettivamente in corso, il programma ispettivo dell'autorità garante prevede centinaia di ispezioni, inoltre è stato siglato un accordo con la Guardia di Finanza che sta già in questo momento, portando avanti in maniera puntuale con attività ispettive specifiche fatte da personale preparato specificamente dei controlli. Sappiamo che una violazione dei dati personali può compromettere chiaramente la riservatezza del nostro database aziendale e poi sappiamo che ci può costare caro perché le multe sono molto salate. Le criticità possono essere tante chiaramente, l'accesso o l'acquisizione di terzi sulla nostra customer base, il furto, per esempio la perdita dei dispositivi informatici contenenti dati personali che potrebbe essere il nostro tablet, il pc, una pennetta qualsiasi e l'impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali, virus, malware o attacchi esterni oppure la semplice perdita, non solo la distruzione dei dati a causa di una calamità piuttosto che un incendio. La divulgazione insomma dei dati non autorizzata della nostra customer base aziendale può veramente provocare dei grandi disagi. Per tutto questo oggi esistono soluzioni GDPR Compliance che puoi utilizzare da subito per la tua attività. Io sono Massimo Cardoni e sono un consulente digitale e ti invito a scoprire le soluzioni al più presto. Ti do un saluto e ti do appuntamento alla prossima puntata.